ciao a tutti benvenuti o bentornati su questo canale il mondo di massi un canale dedicato al fai da te variegato e all'arte di arrangiarsi in questi video ho costruito una sorta di divisore per il mio tornio e ho preso spunto da un video di maurizio guidi e l'ho adattato al mio tornio buona visione 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti